La tavola rotonda con la quale andiamo a concludere la settimana, e sì la mattinata, infatti vedete come sono calibrato su altri, sarebbe dovuta cominciare una mezz'oretta fa. Quindi chiediamo agli associati, ai quali avremmo detto che sarebbero stati comunque coinvolti più direttamente nella tavola rotonda, di rimanere in platea. Io farò in modo, tenendo d'occhio il cronometro, di riuscire a concedere ai nostri redatori una mezz'oretta abbondante di primo giro, e poi apriremo a questo punto direttamente dalla platea le domande dei nostri ospiti, dei nostri associati, insomma di quelli che sono rimasti. Grazie. Rapidissimamente una presentazione, ma insomma perché è dovuta, noi abbiamo il piacere oggi di avere alcuni ospiti, ovviamente il dottor Catania che ringraziamo particolarmente perché anche lui è da stamattina qui con noi fin dall'inizio, e l'avete già sentito, di Confindustria Digitale. Poi abbiamo ovviamente il nostro presidente Carlo Capè e a fianco a lui c'è il dottor Francesco Cuccia che è a capo della segretaria tecnica del MISE, del ministro Calenda. Roberto Santori invece vicino a me è il presidente della sezione consulenza di Unindustria. Allora, noi appunto vorremmo ascoltare in primis il dottor Cuccia, però due parole le faccio dire anche al nostro presidente che ci racconta come l'anno scorso erano le piccole e medie imprese, quest'anno è l'industria 4.0, ma non è detto che non ci sia un filo tra le due cose e che quindi poi magari, che poi è il tema della tavola rotonda di oggi, le due cose, i due temi possano nel giro magari di un anno, come diceva l'autor Catania stamattina o anche meno, incontrarsi. Grazie Marco, io credo di aver parlato già abbastanza prima e colgo l'autostimolo sul fatto che noi ci siamo concentrati sulle piccole e medie imprese perché, come avete visto dall'osservatorio, sono il settore che meno utilizza la consulenza, lavorando come dei matti negli ultimi due anni per fare accordi, per andare in giro sul territorio, per fare un road show che è stato anticipatorio rispetto a quello di Industria 4.0, indubbiamente questa rivoluzione industriale va a colpire tutti, forse non i parrucchieri, ma forse anche quelli e comunque le piccole da 5 milioni sicuramente sono impattate. Quindi le due cose assolutamente convergono e la visione che tu hai è corretta, quindi noi andremo avanti a lavorare su tutti e due i fronti, ovviamente non tralasciando le grandi. Bravissimo, se facciamo interventi così però... No, no, il Presidente è stato gentile anche che mi ha detto che dobbiamo riuscire a far parlare il più possibile ai nostri ospiti così poi da poter rispondere anche alle domande. Allora, il Dottor Cuccia, che ho avuto la fortuna di incontrare in alcune riunioni che abbiamo fatto con Asso Consult e il Ministero, anche in programma di questi nostri stati generali, siccome parlavamo prima, ma ovviamente in quanto consulenti siete già svezzati all'industria 4.0 to cure, cioè a che cos'è. Però è anche vero ed è uno dei motivi per cui siamo poi entrati in contatto con lui che il Dottor Cuccia viene dal mondo della consulenza. Quindi, al netto di poter avere un attimo un aggiornamento proprio quasi reale di quella che è poi un piano che è già in atto, chiederei il suo punto di vista su come poi questo si sposa, e noi ovviamente speriamo, perché lo pensiamo, possa trovare nella consulenza un interlocutore quasi necessario. Buongiorno a tutti. Vorrei andare molto rapidamente sul piano e sul motivo per cui il Ministro ha deciso di lanciare questo piano e di farlo in maniera estremamente importante, andando a capitalizzare gran parte della legge di bilancio dell'anno scorso. Il tema di partenza è il seguente. Noi usciamo da una crisi economica che ha lasciato sul campo molte imprese, molti punti di PIL, molti più di quelli che i nostri diretti peers, quindi le altre nazioni europee avanzate come la nostra, hanno lasciato sul campo. Abbiamo lasciato un quarto della produzione industriale, abbiamo lasciato circa il 30% degli investimenti. Se facciamo un confronto di quanto hanno lasciato sul campo Francia, Germania, UK, ecco che ci rendiamo conto che abbiamo un gap da colmare estremamente grande. Per colmare questo gap ci voleva un piano estremamente ambizioso, ed è il piano che abbiamo sviluppato al Mise, che abbiamo implementato, che il Ministro ha stressato e ha portato avanti e in giro per l'Italia nei mesi subito dopo la pubblicazione in legge di bilancio. Qual è la situazione attuale del piano? Il piano un po' come, per lo spirito manageriale che caratterizza il Ministro e che quindi ci avvicina un po' molto a noi consulenti, è quello di un tracking molto puntuale dell'andamento delle misure. Quindi non solo fare la misura, pubblicarla, ma poi verificare quotidianamente il tiraggio della misura e come la misura effettivamente stia rispondendo alle esigenze delle imprese. Ad oggi abbiamo dei dati preliminari che sembrerebbero essere positivi. Vediamo un Federmacchine che a fronte dei famosi 80 miliardi che speriamo possano diventare 90 nel corso dell'anno copre una quota di circa 22 miliardi e registra una crescita degli ordinativi media del 13%, con dei picchi nel settore delle macchine per due, quindi sembrerebbe andare nella traiettoria giusta. Contatti informali con Asinform che segue tutta la parte dell'ICT, anche loro parlano di risultati positivi, siamo in attesa di avere risultati a breve. Altre misure che invece sono più gestite internamente da noi, come la nuova Sabatini, fanno vedere come le richieste di finanziamento nei mesi subito successivi all'apertura dello sportello specifico su Ben Industria 4.0 abbiano registrato un incremento del 110% rispetto alla media del 2016. Quindi sono numeri positivi che dobbiamo ancora però aspettare di confermare insieme all'Istat che ci giudica a fine anno per vedere se abbiamo raggiunto gli obiettivi che il piano si era prefissato. Il ruolo della consulenza secondo me è un ruolo chiave, perché se è vero che c'è una direttrice e che si concentra soprattutto sugli investimenti e quindi su misure fiscali a supporto agli investimenti, c'è una seconda direttrice forte sulle competenze. Ad oggi quello che abbiamo potuto verificare sul mercato è che molte imprese si ritrovano in una situazione di incertezza e dopo un periodo come quello di crisi che hanno passato, fare dei salti un po' nel vuoto con grossi investimenti anche se supportati da grandi incentivi tende un po' a frenarli. Quindi un ruolo che può avere la consulenza è proprio quello di supportare il deployment del piano stando vicini a quelle imprese con cui voi operate quotidianamente. Ci sono clienti magari più solidi, più ricorrenti che da anni hanno creato un rapporto di fiducia stretta con voi. Ecco, quelle aziende sono proprio le prime aziende da cui partire. Sulla fiducia e sulle vostre competenze si può veramente pensare di portare avanti l'execution del piano, altrimenti rischiamo che tutte quelle aziende che oggi sono scettiche o non hanno le competenze, gli manca il know-how, come diceva il dottor Catania prima, non hanno quelle competenze in azienda, continueranno a non averle e perderanno questa occasione. Voi potete essere, secondo me, un fattore abilitante estremamente forte per colmare questo gap e far sì che anche le imprese più piccole possano, o che sono più indietro da un punto di vista digitale, perché non per forza piccolo vuol dire meno innovativo, anzi, in alcuni casi sono proprio le grosse che rischiano di essere un po' limitate da procedure interne di approvazione di investimenti, vi dicendo, ad essere rimaste un po' più ancorate a quello che è un business model più tradizionale. Spero che ci sia, attraverso la collaborazione con i Digital Innovation Hub, ma anche con il vostro lavoro day by day, la possibilità di essere sempre più vicini alle imprese per supportare in questa fase di comprensione e poi di sviluppo di progettualità per garantire il salto tecnologico. Bene, grazie. Allora, fatto questo primo, diciamo, introduzione più istituzionale, va fatta un'altra premessa, cioè che qui tutti quanti siamo ovviamente molto convinti del piano e pensiamo che sia un'opportunità. C'è da sposare anche l'intervento di questa mattina del dottor Catani, adesso al quale farò una domanda, però, proprio in risposta alla domanda che farò a lui e alla domanda successiva al dottor Sartori, chiedo adesso, non certo di andare a scavare quali siano le cose che non funzionano, però di provare ad analizzare qual è lo stato dell'arte e delle cose che forse si possono migliorare. Mi spiego meglio. Mi è piaciuta molto questa mattina l'espressione che ha usato il dottor Catania che si è definito un evangelista. Allora, siccome per noi giornalisti il 4.0 è molto più facile, perché se ti viene un'intuizione, vai su Google, trovi Wikipedia e in due secondi hai raggiunto il tuo obiettivo, che poi è quello magari di lasciare una sensazione o di dare un'idea rispetto a una cosa che ti è venuta in mente, ovviamente ho trovato nel giro i cinque secondi Paolo di Tarso che nella seconda lettera a Timoteo scriveva svolgi il compito dell'evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio, sopporta le sofferenze, che fa un po' rima con resistenze di cui lei ha parlato questa mattina. Allora è vero che lei è già stato chiesto, siamo già stati su questo tema, quindi magari non le chiedo di essere lunghissimo, però quando parla di resistenze, allude a resistenze interne ma anche a resistenze esterne, in fondo lei qui rappresenta una grande associazione confindustriale, ha un rapporto diretto con la politica e con le imprese e quindi quando parla di resistenze parla di una, mi perdoni il termine, vediamo se è accettabile, responsabilità un po' condivisa. Assolutamente sì, mentre ero fuori per pochissimi minuti mi sono innervosito in casa nostra, proprio all'interno di questo palazzo, proprio sui tempi di attuazione. Mi ritengo evangelista, ma mi considero anche un executor, cioè qui mi chiamano il digital stalker. Signori miei, il tempo corre, mentre noi facciamo qui queste giustissime riunioni, sono d'obbligo anche perché hanno un contenuto reale, quindi merito a Carlo per averlo organizzato. Gli altri paesi intanto fanno, eseguono, corrono. Il gap di cui parlavamo questa mattina, richiamato adesso da Francesco, è lì, è reale. Quando vedo ancora delle territoriali di Confindustria che stanno lì a fare delle riunioni per decidere un tavolo con cui poi iniziare l'installazione di Innovation Hub, a me vengono i brividi. Forse sarà che con l'età si diventa meno pazienti, meno tolleranti, ma non possiamo più permettercelo. Quindi cerco di rispondere. La variabile tempo è cruciale, è fondamentale. Dobbiamo diventare tutti quanti impazienti. I balletti verdi, i rituali, quelle cose che avvenivano, avevano forse una loro logica, non l'avevano neanche allora, adesso non sono più giustificabili. Quindi cos'è che vedo ancora? Vedo purtroppo, stamattina parlavamo di classe dirigente che sta cambiando, vedo ancora una parte della classe dirigente, e parlo di casa mia per correttezza, che ancora non ha capito quello che sta succedendo. Quindi il mio compito, il nostro compito, perché da solo non è che si fa nulla, qui ho chiamato alla raccolta tutti quanti noi, dobbiamo spingere e fare in modo che questo tema diventi il tema, il tema principale di chi fa del business, di chi fa associazione, di chi fa qualunque attività. Noi qui ci stiamo giocando il nuovo quadro economico del nostro paese. L'ho richiamato Francesco, due punti di pila abbiamo lasciato sul tavolo, 800.000 posti di lavoro, altro che robot che sostituiscono il lavoro. Ieri sono stati pubblicati i dati della ricerca sulle competenze. Se avessimo 85.000 specialisti, li avremmo già occupati. 85.000 specialisti vuol dire gente che sappia far funzionare i robot, che sappia far funzionare la macchina a controllo numerico integrata, che sappia utilizzare i big data e cose di questo tipo. Quindi allora, il vero nostro compito, e qui abbiamo di nuovo leadership perché sono persone che vengono ascoltate dal mercato, è far salire di priorità questo argomento in tutti quanti i tavoli. Ecco, poi la responsabilità nostra, ed è il tentativo che abbiamo fatto con Carlo Calenda, con Francesco, è di far diventare questo sistema, attraverso la rete di Generation Hub, attraverso la rete con le Camere di Commercio, tutte le iniziative che abbiamo messo in piedi. Un'altra cosa fondamentale, abbiamo parlato molto di pubblica amministrazione questa mattina, io sono convinto che la pubblica amministrazione debba essere, e debba avere un ruolo trainante. Qui c'è un punto chiave, se tu oggi parli con Piacentini, Piacentini ti dice che su 12 Digital Innovation Officer da mettere in ciascun ministero, ne è stato messo soltanto uno. Uno. Ma cosa manca? Perché oggi pomeriggio vengono nominati gli altri 12. Oggi pomeriggio? Non tra sei mesi, un anno. Oggi pomeriggio. Noi dobbiamo porre sempre questa domanda, perché non oggi? Allora, finché una pubblica amministrazione, lo dico adesso a Francesco, che è uno che tra l'altro viene dal nostro mondo, e che ha dimostrato negli ultimi periodi di avere un senso di urgenza addirittura superiore al nostro, con Carlo Calenda, per fortuna. Alzate la voce anche voi. Alzate il tono. Non è possibile che oggi, se tu vai in un ministero, non hai il Digital Innovation Officer, o il Digital Officer, chiamato come non vi pare. Per cui delle tematiche di cui abbiamo parlato questa mattina, se ne occupano in 44. E quando se ne occupano in 44, voi sapete che non se ne occupa nessuno. Con il risultato che, se c'è una cosa da fare oggi per avere il vero rientro della spending review, e ridisegnare i processi della pubblica amministrazione, tutto questo non viene fatto. Ne ho parlato con il ministro Madia. Lei sente fortemente il bisogno di rimettere mano ai processi. Non si sta facendo nella pubblica amministrazione. Noi stiamo cercando di tagliare i costi, ed è giusto, pompare tecnologia, ma i processi vecchi. Voi mi insegnate, pagina 2 dei libri di consulting, che il ritorno che tu hai è minimale, se non metti mano invece al modo di far funzionare la pubblica amministrazione, che è quella che poi ti dà un ritorno vero al cittadino in termini di servizio, o alle imprese in termini di servizio. Quindi allora, quali sono le resistenze? Queste. Come si incide? Spingendo a far decidere oggi. Perché non ci sono motivi per non prendere la decisione. Ci sono le leggi, le leggi si possono cambiare, si fa un decreto, si fa quello che si fa nel mondo della pubblica amministrazione, nel mondo privato, non ci sono scuse. Quindi io credo la variabile tempo sia essenzialmente quella, quella critica. Un ultimo punto volevo fare. Questa mattina, un'altra cosa, le paure. Siamo circondati da paure. Fisiologico. Io ne ho viste tante trasformazioni come voi. Tutte le volte si diceva, i robot sostituiranno l'uomo nel lavoro. Vi ricordo con Luciano da Crescenzo, tutti lo conoscete, simpaticissima persona, lui era il mio capo quando eravamo giovani. Dovevamo andare, ero consulente, dovevamo andare a proporre un grande sistema per automatizzare l'anagrafe del Banco di Napoli, anni 70. E mi ricordo per andare dal dirigente che era responsabile di questo servizio, bisognava attraversare una stanza tutta piena di gente che stava lì con la Divisumma a fare le somme. E mi ricordo, con Luciano passavamo e Luciano faceva, guardando tutti questi, faceva, voi siete tutti morti. Voi siete tutti morti. In realtà non sono morti, hanno cambiato, per fortuna hanno cambiato lavoro, questi stavano con la Divisumma. Allora, contro tutti questi profeti di sventura che pur di avere qualche titolo sul giornale dicono un sacco di belle robe, ma ancora abbiamo tante di quelle robe da fare. Per ogni posto spiazzato da internet se ne creano due e mezzo. Ci sono professioni nuove che neanche sappiamo, tutte robe che sapete, dai, non ve le ridico. Però noi dobbiamo diventare i portatori di questa novità, i portatori dell'aspetto positivo della trasformazione. Certo, un'impresa che non cresce, muore e caccia via tutti quanti. Cominci a mettere mano ai tuoi processi e vedi che tu troverai nuovi mercati, nuove professioni all'interno della tua azienda. E questo ci dice oggi la letteratura di quelle aziende che hanno fatto questa trasformazione. Le piccole, le medie, le grandi. Ultima cosa, i prezzi. Questa storia della caduta dei prezzi. Perché i prezzi cadono? Qui faccio di nuovo il consulente come voi. I prezzi cadono perché c'è uno che fa un prezzo più basso e quel prezzo viene accettato. È così? Allora delle due l'una. O quel signore è stato così bravo da fare un prezzo assolutamente valido per l'offerta e la qualità di ciò che sta offrendo e allora è bene che tutti gli altri si tirino sulle maniche e mettono mano alla loro struttura dei costi e di valore oppure qualcuno non ha valutato bene il contenuto di quell'offerta. Giusto? Cosa c'è dietro veramente quel prezzo? E ritorniamo al tema di prima. Uno dei nostri compiti nel privato e nel pubblico è fare in modo che salga la qualità dei nostri interlocutori perché finché avremo degli interlocutori che stanno lì soltanto e trovano come via migliore quella di trovare il prezzo più basso indipendentemente dalla capacità di chi fa l'offerta di deliverare qualcosa di concreto oppure noi saremo sempre alle prese con i prezzi che cadono e questo vale per la consulenza vale per il software vale per i sistemi quindi cerchiamo di lavorare sempre di più per fare in modo che cresca la nostra interlocuzione il livello della nostra interlocuzione altrimenti noi saremo sempre qui per anni a discutere che i nostri prezzi cadono e nessuno se ne accorge il costo di un'offerta non deliverata è cento volte maggiore dello sconto che tu hai avuto per averla accettata grazie dottor Catania allora dottor Santori rispetto anche a una rappresentazione oggi si usa molto dire rappresentazione plastica però voi immaginatevi la cartina del nostro paese uno degli obiettivi del piano industria 4.0 e ho appunto avuto modo di ascoltarlo e di parlare anche nelle varie riunioni che abbiamo fatto è quello non di capovolgere il paese ma di ridistribuire un po' tutta quella che è la presenza industriale che oggi come tutti sappiamo è molto più sbilanciata verso il nord in questo senso e anche poi in ottica rispetto al mondo delle associazioni un'industria gioca un ruolo molto importante nello specifico oggi ci fa piacere averla qui perché poi consulenza e consulenza e consulenza e formazione poi per quanto riguarda anche un'industria il punto di vista suo vostro rispetto a quella che è l'attuale applicazione del piano e rispetto a quello che può essere soprattutto un recepimento da parte delle piccole cito soltanto un dato che è stato detto questa mattina da Corrado durante la presentazione del nostro osservatorio annuale cioè che negli ultimi due anni la rilevanza della consulenza per la digitalizzazione è passata per le grandi aziende dal 32 al 74% mentre le piccole hanno fatto più fatica piccole o medie hanno fatto più fatica questo come spunto per il suo intervento allora grazie buongiorno a tutti mi fa molto piacere essere qui lo scorso anno abbiamo avuto un evento in contemporanea quindi non siamo riusciti a far coincidere le nostre attività mi presento velocemente sono presidente da un anno della sezione risorse umane formazione e consulenza di un'industria dove rappresento circa 230 aziende aziende del settore aziende del settore che vanno da un dipendente alle grosse società di consulenza quindi da Deloitte alle altre che aderiscono al sistema a Roma e nel Lazio quindi diciamo abbiamo uno spaccato sia dell'offerta ma anche come un'industria ovviamente della domanda che c'è nel Lazio perché rappresentiamo appunto le imprese di questo territorio in questo anno abbiamo sentito tanto parlare di industria 4.0 abbiamo tanto sentito parlare di digital transformation e di tanti temi come dire legati alle imprese al cambiamento fino a qualche anno fa si parlava tanto di change management che poi come dire è diventato un valore un DNA come dire un comportamento del quotidiano fino a qualche anno fa era una fase oggi sappiamo benissimo che fa parte del nostro quotidiano e che tutte le imprese dai parrucchieri come sentivo prima sentivo dire prima alle grandissime aziende devono fare tutti i santi giorni il nostro lavoro come associazione ma anche come consulenti io una società di formazione lavoriamo moltissimo sulla come dire sensibilizzazione rispetto a questi temi e in particolare stiamo lavorando molto con la nostra collega sempre di un'industria Vittoria Carli che è presidente della sezione IT stiamo portando avanti molte iniziative congiunte perché crediamo molto nel tema dell'unione di come dire contenuti se vogliamo più software inteso come software delle persone che fanno parte poi delle aziende piuttosto che la parte IT che si occupa se vogliamo della parte tecnologica perché crediamo molto nel cambiamento prima di tutto culturale perché prima sentivo dire sia sulla piccola la media la grande noi possiamo portare qualsiasi strumento qualsiasi tecnologia qualsiasi nuovo applicazione ma fondamentalmente se non convinciamo o meglio le persone che fanno parte delle aziende non sono convinte del cambiamento non sono convinte che non ritornerà più quello che c'era prima perché oramai è come dire siamo lenti nei cambiamenti siamo lontani da quello che sta accadendo in molti altri paesi che ci sovrastano nella velocità in modo particolare quindi fondamentalmente brutalizzo il concetto è facile andare da una società di consulenza o di IT o di software comprare i sistemi applicarli ma poi è molto più difficile lavorare sulle risorse umane lavorare sul digital mindset che di fatto è quello che poi porta all'utilizzo vero e proprio di questi strumenti o che metta in pratica il grosso del cambiamento che le aziende vogliono oggi quindi il lavoro su cui ci stiamo concentrando è proprio quello di lavorare in parallelo tra come dire la parte tecnica quindi ben vengano come dire strumenti finanziamenti iniziative a supporto delle imprese ben vengano nuovi prodotti nuove soluzioni che tutti noi consulenti o società di IT propongono al mercato ma fondamentalmente secondo noi serve lavorare prima sui processi lavorare sulle persone e poi o contemporaneamente apportare tutte le modifiche del caso abbiamo lavorato molto in questi anni sia con le grandi ma anche con le medie imprese su questo cambiamento e ci siamo resi conto che il grosso della resistenza di questo cambiamento avviene nei profili alti quindi quindi il grosso come dire della resistenza paradossalmente è un po' nei piani alti delle imprese perché a parole è molto facile dire cambiamo innoviamo mettiamo l'app facciamo nuovi processi nuovi sistemi ma poi il vero tappo sta lì nella grande perché ci sono poi ovviamente sappiamo benissimo che qualsiasi processo o qualsiasi novità porta cambiamenti che può portare anche come dire a scontri sociali politici con i sindacati con tutto quello che c'è dietro e sappiamo benissimo che dal basso molto spesso è più facile trovare giovani che hanno voglia di cambiare o millennials che attuino velocemente i cambiamenti anzi forse la spinta è più bottom up che non top down quindi secondo noi questo processo di sensibilizzazione di cultura digitale di come dire di formazione di orientamento chiamiamolo come vogliamo ma è determinante per poi far arrivare il messaggio che dobbiamo muoverci e dobbiamo accelerare notevolmente su questo cambiamento e soprattutto come si dice possiamo portare un cammello alla fonte ma non possiamo costringerlo a bere dobbiamo far sì che questi temi questi se vogliamo questi questa paura anche del cambiamento venga trasformata in opportunità sì si dice che nel momento in cui arriverà tutto questo cambiamento industria 4.0 cambieranno saranno licenziate tot persone cambieranno invece ma come dire è un ricambio come prima diceva il collega è un ricambio naturale ci saranno nuove professioni ci saranno nuovi ruoli i nostri figli faranno dei lavori che noi neanche ci sogniamo parto dalla mia esperienza personale il collega mi ha chiamato dottore ma in realtà sono lavorato in ingegneria civile edile e contro la volontà di mio padre io avevo iniziato a fare un lavoro che non c'entrava assolutamente nulla con l'ingegneria civile edile quindi come dire loro volevano che facessi l'ingegnere perché vengo da una famiglia di ingegneri architetti avevo lo studio avevo già il mio tavolo ancora non c'era l'autocad o cose del genere quindi il mio destino era in quella direzione ho nascosto per anni che avevo già il cellulare perché lavoravo facevo Roma Milano ma ancora dovevo laurearmi e quindi come dire ho inventato un lavoro che poi è diventato il mio lavoro legato da un gioco è nata come dire l'attività come un gioco come una così un divertimento che facevo durante il giorno facevo il piccolo manager e poi la sera studiavo e andavo all'università a fare i progetti e il giorno mi divertivo a fare altro il giorno in cui mi sono laureato ho dovuto raccontare ai miei che non avrei fatto l'ingegnere è stato per loro un trauma e ancora oggi mio padre mi chiede ma tu cosa fai esattamente perché ancora non gli è chiaro scherzo ovviamente diciamo questo è avvenuto in anni in cui anche il cambiamento del lavoro è stato molto più lento ma forse noi oggi io ho un figlio di 10 anni non so esattamente cosa farà quando avrà 30 anni o 25 mi auguro anche meno quindi penso che ci sia un cambiamento storico l'abbiamo detto l'abbiamo ripetuto stiamo ancora come dire in attesa che questo cambiamento in molti stanno in attesa che questo cambiamento passi quindi come dire aspettiamo che la bufera passa così ritorniamo nel nostro orticello noi viviamo una fortissima contraddizione e poi chiudo una fortissima contraddizione perché ci troviamo a fare convegni di questo tipo dove si parla di tantissime iniziative si parla del futuro si parla di grandi aziende o grandi progetti che sono stati fatti ma poi il PIL italiano è fatto per la gran parte dalla piccola e media la piccola e media noi la viviamo spesso la viviamo moltissimo nel quotidiano e quando gli parliamo faccio esempio del bando sulla digitalizzazione che c'è stato di fondi dirigenti ad inizio dell'anno noi ci siamo presentati in moltissime aziende a dire portiamo avanti facciamo presentiamo e via dicendo la risposta è stata in molti casi anche in medie grandi aziende è stata sì scriviamo tutto quello che volete ma poi facciamo un corso di Excel allora il mondo come dire secondo me va a velocità molto diverse c'è chi ancora sta ragionando se deve cambiare e chi come giustamente dal ministero a molti noi del settore società di consulenza di formazione e altri abbiamo una spinta molto più forte perché vediamo come dire il futuro molto più vicino di quello che il sistema vede parlo di imprese del nord che ovviamente hanno una velocità diversa imprese del centro o anche imprese del sud dove ci sono dei gap secondo me molto forti tra le le giovani start up che hanno voglia inventano creano sviluppano e poi ovviamente c'è un sistema ancora molto fermo anche legato al contesto e chiudo sicuramente iniziative come queste o molte altre ecco la settimana scorsa abbiamo fatto come un'industria un convegno su gli HR trends quindi i trend futuri delle diciamo delle nuove professioni basandoci su una ricerca di Deloitte fatta dalla human capital di Deloitte a livello internazionale che poi sarà declinata e penso uscirà a giugno anche a livello italiano e la gran parte dei trends futuri si basano sulla velocità sul cambiamento sulle competenze digitali sul digital mindset quindi sono temi che sicuramente vanno in parallelo con tutte le azioni e tutto ciò che sono i macchinari o tecnologie o altri strumenti perché le due cose non possono prescindere le due cose devono andare assolutamente in parallelo è nostro compito dare grosso risalto a questa opportunità io la vedo come una grossissima opportunità questa rivoluzione questo cambiamento dobbiamo farla arrivare a tutti alle piccole soprattutto benissimo grazie grazie allora come dicevo all'inizio rispetto a quello che è il nostro programma ci rimangono appunto un quarto dura 20 minuti che possono essere anche qualcosina di più che a questo punto terrei per il dibattito da parte vostra con i nostri ospiti dando un io adesso mi sto memorizzando un primo inizio alle domande vi pregherei se avete davanti il microfono di accenderlo così poi prego presentatevi sempre grazie mi chiamo Riccardo Gallo ho una domanda di informazione e una valutazione se me la consentite la domanda di informazione al ministero c'è qualche dato sull'impatto di industria 4.0 ho sentito che l'istat farà dirà eccetera ma oggi come oggi in qualche cassetto c'è qualche dato qualche numero qualche risultato questa è la domanda di informazione mi vuole rispondere poi faccio la o vado procedo come preferito procedo allora io ho sentito se mi consentite lo dico con una certa prudenza una voce terza non sono consulente non sto al governo non sono imprenditori però ho esperienza per età ho fatto il mestiere del dottor Cuccia forse tre volte nella mia vita allora non è vero che c'è stata una crisi abbiamo perso qualche punto di pil abbiamo perso un po' di imprese che adesso con l'industria 4.0 innoviamo moderniamo e ci riprendiamo se siamo veloci non è vero la nostra crisi è antica non è recente sono 20 anni per ragioni strutturali storiche lunghissime negli anni 90 sono venuti al petti nei nodi dell'intervento pubblico che risalgono a un'infinità di anni fa e non è vero che adesso l'industria 4.0 rinnova se ci sbrichiamo risolve non è così bisogna vedere con umiltà le cose una decina di anni fa io lavoravo ai margini del ministero facemmo una ricerca e vedemmo che una serie di filiere tecnologiche avrebbero potuto rivitalizzare i settori industriali in queste filiere alcune erano la digitalizzazione ma ce n'erano altre belle importanti che andavano a toccare il ciclo produttivo i biomateriali eccetera eccetera sono scomparse adesso il Vangelo è la digitalizzazione punto finito e c'è chi come della valle dice guardate è importante il saper fare cioè è importante anche il processo produttivo che è qualcosa che è di più e prescinde dalla digitalizzazione allora la valutazione che vorrei sottoporvi la domanda che vorrei farvi anche ai fini dell'attività di consulenza è gli investimenti cioè scusi faccio meglio la domanda abbiamo un'industria che ha tirato i remi in barca fabbriche che sono morenti l'industria 4.0 presume che esista un organismo che risponda alla cura presuppone che ci sia un corpo che reagisca alla medicina e qui la domanda di fondo terribile ma ce l'abbiamo ancora in Italia non è pessimismo non è pessimismo lo so sto parlando nei palazzi confindustria se voi mi tacciate di pessimismo confermate il mio dubbio qui la domanda di fondo è al ministero come vedete il sistema produttivo italiano rispondo prima alla prima domanda sul tracciamento dei risultati di industria 4.0 la risposta è assolutamente sì con il supporto di tutte le associazioni di categoria che monitorano su base periodica chi su base mensile chi su base trimestrale chi semestrale l'andamento degli ordini del fatturato delle aziende allora associate questo li chiediamo e ci ricondividono ovviamente non posso fare disclosure di alcuni numeri che non sono stati ancora pubblicati o ufficializzati dalle associazioni ma noi questi dati li stiamo raccogliendo e stiamo monitorando l'andamento proprio perché è un input che è forte che abbiamo ricevuto dal ministro io poi come ex consulente se non ho il dato sotto mano mi sento nudo quindi andare al ministro e dire come sta andando ho bisogno del numero di backup per poter affermare con forza quello che è l'effettivo andamento questo è un primo punto sul tema che industria 4.0 non possa essere la soluzione di tutti i nostri mali sono d'accordo con lei non stiamo dicendo che solo industria 4.0 potrà portare fuori l'Italia dalla crisi e quando vedo alcuni settori che provano a rientrare nel tema industria 4.0 anche noi vogliamo avere gli incentivi o dobbiamo essere tutelati o coinvolti nel piano industria 4.0 a volte mi viene da storcere un po' la bocca la coperta la si tira molto per farvi rientrare dentro e ci possono essere alcune difficoltà quindi probabilmente è necessario un altro piano su quel settore e quei settori bisogna ascoltarli seguirli e capire quali sono le loro difficoltà come lei se dovesse avere punti o spunti per nuove policy per supportare quella che è la ripresa del paese le assicuro che di centinaia di mail su progetti anche stravaganti che arrivano diamo seguito a tutti quanti quindi siamo aperti ad ascoltare quelle che possono essere le soluzioni per quanto riguarda invece il tema su un tessuto industriale pronto a rispondere e se esiste un corpo che può disporre della cura industria 4.0 secondo me assolutamente sì cioè restiamo e siamo la seconda potenza manifatturiera europea non è che non c'è più nessuno in giro per l'Italia abbiamo affrontato i momenti di crisi e li abbiamo superati li stiamo superando più che li abbiamo superati una velocità di uscita dalla crisi all'1% ci farà uscire dalla crisi fra anni l'obiettivo del piano è dare proprio questa scossa per far capire che se si continua a fare business nella stessa maniera si rischia che fra qualche anno un Amazon like piuttosto che un cinese di turno per un motivo o per l'altro mette a serio rischio il tuo modello di business non dobbiamo ricordare che abbiamo grazie anche alla globalizzazione una serie di opportunità per il nostro exit ma anche una serie di sfide il rientro di cervelli o la fuga di cervelli da che punto di vista la vogliamo prendere non la possiamo risolvere semplicemente riducendo le tasse ma se non c'è un settore produttivo dinamico che possa dare pane per i denti di cervelli che vogliono sfide interessanti ecco che scappano nonostante il taglio di tasse che gli si possa garantire piuttosto che se non innoviamo il fenomeno della delocalizzazione lo possiamo contenere gestire rallentare ma prima o poi non possiamo pensare che le nostre fabbriche possano andare avanti o essere competitive contro dei prezzi dei costi della monodopera come quelli che si possono trovare nel Far East o nelle più vicine realtà europee nell'est Europa dobbiamo trovare una soluzione per far sì che le nostre imprese possano essere competitive sul mercato da qua ai prossimi 10 15 20 anni in attesa di quella che sarà la prossima rivoluzione industriale mi fa special sentire già parlare il 5.0 non abbiamo neanche iniziato a scaricare a terra 4.0 già ci poniamo il 5.0 come si diceva molte imprese oggi si fermano su competenze basiche non sanno usare l'Excel o non hanno SP e gestiscono gli ordini via mail o via telefono su fogli di carta partiamo dai basics mettiamo a terra i basics ci mettiamo sopra 4.0 è vero uno dice le misure hanno una durata limitata e quindi chi è in ritardo non le potrà usufruire perfetto ma abbiamo un panel di imprese che da una parte dobbiamo supportare per rimanere competitive sul mercato che quelle misure possono già applicare e possono essere da esempio a quel gruppo di imprese che invece per anni storicamente è rimasto più indietro possono dare quell'effetto sveglia quindi assolutamente confidenti che il piano possa supportare il settore italiano che esiste c'è può essere la soluzione unica non lo abbiamo mai detto può essere sicuramente una soluzione importante altre soluzioni sono assolutamente ben accette grazie Alessandro Bosio società di consulenza BF Partners di Genova in parte mi avete già risposto sulla domanda che volevo fare però sicuramente anche se appunto non ho i dati però rispetto ai clienti che sto seguendo anche a me risulta che ci sia stata questa scossa dovuta diciamo a questa iniziativa del piano nazionale visto che comunque qualche investimento che magari erano indecisi se fare o non fare con il piano nazionale parlo dei clienti che sto seguendo hanno deciso comunque di andare avanti quindi mi torna il ragionamento la domanda è questa siccome il 4.0 è un percorso più che un colpo di mano di un anno ma è ovviamente un percorso anche per provare come lo hanno fatto anche gli altri paesi europei quindi per provare a includere il più possibile di aziende che se no rimarrebbero fuori comunque io dico sempre perché c'è una divericazione in cui se non si entra bene nella digitalizzazione si rimane come semplici fornitori e quindi esposti a tutte le possibili insidie del caso la domanda è questa quindi risulta un rinnovo di questo piano nazionale anche per i prossimi anni in termini di incentivi o no grazie allora per i prossimi anni la linea guida è dire sempre di no per due ragioni una perché si perde il focus su quello che sia adesso e l'obiettivo della scossa è proprio dire ci sono ancora sei mesi per poter massimizzare alcune misure perché si tende sempre a legare industria 4.0 all'iprammortamento non è così il potenziamento del credito di imposta ricerca e sviluppo dura 4 anni tutte le misure a favore delle start up sono strutturali la nuova Sabatini ne dura 2 quindi è vero che è quella che attira un po' di più l'attenzione quindi giustamente parliamo dell'iprammortamento dura quello che ad oggi è previsto in legge di bilancio possiamo lavorare stiamo lavorando perché con un confronto costante con le imprese abbiamo capito che stiamo incominciando a arrivare a un punto di saturazione di alcune capacità di accettare ordini delle imprese italiane soprattutto le piccole quelle che hanno avuto un boost degli ordini in alcuni casi del 100% 120% e che quindi hanno raggiunto una saturazione della propria capacità produttiva che non gli permette di consegnare prodotti entro giugno ecco che questo fa scemare la capacità della misura che ha avuto uno slow start iniziale proprio per la mancanza di conoscenza da parte delle imprese che hanno messo hanno impiegato tempo e mesi per comprendere bene come poter utilizzare la misura adesso si trova nella situazione dove questo picco di ordini che abbiamo avuto a marzo aprile ha già in parte intasato alcune imprese italiane e rischia di avere una curva discendente della attrattività della misura è vero uno potrebbe dire sì però si può andare su un mercato globale e comprare il prodotto da altre aziende fine in ragione dello Stato la prima cosa che ci ha chiesto è qual era il breakdown fra importazioni e produzione nazionale della vendita dei prodotti che stavamo andando a incentivare per evitare di fare una situazione simile incentivi dei pannelli solari cinesi quando sono stati incentivi sul fotovoltaico su questo stiamo lavorando proprio per in legge diciamo nella manovrina insieme al MEF capire se c'è la possibilità per allungare i tempi per la consegna cosa che abbiamo proposto più volte proprio per dare più respiro nei mesi restanti non oso pensare se siamo a questa situazione a giugno o che cosa sarà a dicembre quindi proprio per garantire i 12 mesi di piena priorità delle misure stiamo lavorando su questo tema per i prossimi anni ripeto ad oggi non è previsto nulla ma ciò non toglie che senza avere premesso che c'è un taglio dell'IRES la previsione dell'IRES che danno un po' più di respiro per quelli che possono essere gli investimenti futuri delle imprese e non vi nego che il Fondo Monetario Internazionale che ha incontrato ieri mi chiedeva proprio questo tema gli investimenti stanno risalendo c'è il taglio delle tasse non è che questo piano Industria 4.0 possa essere redundant e che comunque sia vada a incentivare degli investimenti che comunque sia si sarebbero fatti la mia risposta è stata da una parte un po' da consulente ni quindi è vero il taglio delle tasse può dare questo supporto è vero che un'economia in ripresa può dare questo supporto ma uno dobbiamo mettere una seconda marcia perché continuare ad andare in prima all'1% di crescita ripeto non andiamo molto lontani due c'è bisogno di questa scossa perché il rischio che le imprese continuino a fare il loro modello di business come sempre hanno fatto e si mettono in tasca qualche soldo in più dopo un periodo di crisi può essere tanto è assolutamente condivisibile dall'altra è cambiare approccio al proprio business model per evitare di essere fra 5 anni in una situazione molto più critica di quella attuale quindi vedremo in futuro poi legge elettorale vicissitudini politiche da capire su quello che potrà essere fatto nei prossimi anni io scusa colgo la tua domanda e la risposta di Francesco nel sottolineare una cosa che a me personalmente sembrava chiara ma non era così chiara che è questa straordinarietà di coincidenza di interessi tra fornitori e clienti su questa iniziativa quando loro ci hanno chiesto di fare di supportare nel monitoraggio del piano industria 4.0 la mia testa era capiamo quanto stanno facendo i clienti quanto c'è di per ammortamento quanto c'è di la Sabadini ma la loro testa era invece quanto stiamo sviluppando nel mercato dei fornitori cioè quanto gli investimenti stanno aumentando e quanto i produttori di macchine stanno vendendo di più nella realtà dei fatti la coincidenza di interessi crea una volano spaventoso allo sviluppo rispetto a tutte le altre cose in cui bisogna avere l'incentivo altrimenti non parti perché non compri perché qua l'offerta spinge in maniera spasmodica cioè i roll show che noi facciamo con Elio e con gli altri con Pedrolio e compagnie sono un di cui dei veri roll show che oggi avvengono nel paese cioè ci sono Comau che sta facendo i suoi roll show 25 roll show la BB che sta facendo i suoi roll show cioè c'è una spinta che dal mio punto di vista renderà questa macchina autonoma e brillante nei prossimi anni indipendentemente dal rinnovo poi se c'è rinnovo tanto meglio Marco Ventura è una domanda per il dottor Curcio e se possibile anche per il dottore Catania io credo che l'Italia oggi si sia fornito finalmente di un piano industriale per gli investimenti digitali credo che ancora sia assente invece un piano industriale per gli investimenti strutturali perché credo che sia questo il vero piano assente per il sistema paese credo anche che questa mancanza di questo piano industriale di investimenti strutturali possa anche causare nel medio e lungo periodo un ulteriore disavanzo tra quello che è l'economia del nord del paese rispetto al meridione volevo capire innanzitutto se c'è un breve periodo una visione per realizzare un piano industriale sugli investimenti strutturali e se pensate che realmente questa mancanza degli investimenti strutturali può aumentare il disavanzo tra nord e sud sì sono sifiliano sì grazie hai fatto capire quello che ti ho detto Elio vuoi iniziare tu sto pensando al ponte di Messina quindi premesso che di infrastrutture sono pochi mesi sul ministero sono ancora più consulente che ministeriale quindi non riesco a spaziare perfettamente su tutti gli ambiti allora il tema vero è c'è un decreto in corso con un focus sul meridione quindi il ministro De Vincenti su questo sta lavorando sta spingendo molto proprio per andare a chiudere questo gap anche la mia famiglia è siciliana quindi siamo per quanto riguarda un piano strutturale stiamo arrivando in una ritorno un po' al tema di prima forse è una domanda da fare fra qualche mese per capire chi farà la legge di bilancio e quali saranno le disponibilità nella prossima legge di bilancio e come poter mettere mano alle infrastrutture noi quello che abbiamo fatto è stato un qualcosa che potesse essere trasversale su tutte le imprese nord, centro, sud in maniera assolutamente indistinta indistinta anche per i settori perché è vero molte volte ci può essere un ruolo di regista del ministero che dica facciamo questo facciamo quest'altro supportiamo questa filiera piuttosto che quest'altra perché c'ha del potenziale però poi sarà il mercato a dire effettivamente chi ha veramente del potenziale e dare degli enabler in grado di supportare la libera imprenditorialità quindi il libero spirito di fare business è quello che ha guidato il piano industria 4.0 sul tema delle infrastrutture ripeto mi prendo il compito e magari ci possiamo scambiare le mail e le do una risposta via mail mi pare una chiacchierata tra meridionali Catania io forse sono il più meridionale di tutti e tre ipotizzo che per strutturali lei intende infrastrutture strade ponti eccetera allora qui rifaccio a quello che diceva Francesco Cuccia sento numeri importanti comunque che girano detti dal ministero preposto su tutte le iniziative che riguardano l'ANAS le strade le ferrovie quindi sono numeri cui non siamo abituati adesso vediamo se entro nelle leggi del bilancio e questo dobbiamo aspettare però mi faccio dire una cosa lunedì scorso ero a Messina insieme a Lanci e insieme a tutti i sindaci delle città metropolitane proprio a parlare di sviluppo io sono convinto da catanese ho lavorato molto vicino anche alla città di Catania che se noi vogliamo trovare una politica di sviluppo per il mostro mezzogiorno certo la dobbiamo trovare soddisfando i requisiti minimi infrastrutturali quindi di comunicazione l'acqua piuttosto che altre cose ma se c'è una possibilità di sviluppo in un modello economico di sviluppo a mio giudizio ricade guarda caso in tutti i temi di cui stiamo parlando oggi i casi che citavo questa mattina di straordinarie piccole aziende minuscole aziende che sono diventate dei campioni nel loro settore dalle arance alla ceramica di Caltagirone piuttosto che agli infissi di Alghero facevo questi esempi sono emblematici se c'è una risorsa forte nel nostro sud e non ci ascoltino i settentrionali guarda caso è la capacità innovativa creativa di adattabilità dei nostri giovani e ce ne sono tantissimi cominciamo a portare questi elementi di innovazione non voglio chiamare digitalizzazione perché voglio parlare di termini più ampi al nostro sud creiamo al nostro sud tante valle e ce ne sono già tante cominciano a nascere mettiamolo in rete tu vai in Calabria e trovi delle iniziative straordinarie che ruotano intorno all'Unical Università della Calabria con delle start up locali vai in Sicilia e trovi la stessa cosa allora io dico preoccupiamoci proprio dei processi di digitalizzazione sa cosa mi dicevano i sindaci quest'anno loro hanno 300 milioni di euro destinate alla digitalizzazione progetti di digitalizzazione nelle città metropolitane del sud e ancora non sono stati capaci di trovare il modo per spenderli e ritorniamo al dibattito di questa mattina il ruolo dei consulenti chi li sa aiutare a spenderli come spenderli come spenderli in modo trasparente per carità in modo etico ma soprattutto in modo efficace come costruire dei bandi come costruire delle applicazioni delle piattaforme delle architetture è questo quello di cui oggi ha bisogno il nostro sud oltre ovviamente al piano di strade di infrastrutture fisiche eccetera di cui lei parlava ultimo tema che rifà anche a quanto diceva il dottor Gallo in apertura se c'è un fatto fondamentale la sua che io la penso in maniera diversa da come lei ha detto io sono convinto che sono tanti i motivi per cui il nostro paese non è cresciuto ma fondamentalmente perché abbiamo perso la trasformazione dell'economia perché di questo stiamo parlando oggi non di computer ma della trasformazione dell'economia attraverso il digitale e quindi del sistema delle imprese e del sistema dei territori se c'è qualcosa di nuovo in ciò che il Calenda il suo team ha fatto con questo piano cosiddetto Calenda che va sotto il nome di 4.0 che non è nient'altro che il piano di innovazione del paese perché è omnicomprensivo è passato da una politica dei settori a quella dei fattori la politica dei settori indichiamo quali sono i settori strategici del paese onestamente ha funzionato solo in parte anzi io direi che ha lavorato male quindi siamo riusciti insieme a costruirlo insieme una visione diversa vista la trasversalità del fattore tecnologico come abilitatore di qualunque tipo di impresa di qualunque settore lavoriamo su quello certo oggi un imprenditore non investe soltanto perché ha l'iperammortamento come dicevamo deve investire perché crede che c'è un futuro per la sua impresa che ha una visione ma certamente il fatto di poter raggiungere la defiscalizzazione non può che aiutare quindi siamo di fronte a un fatto nuovo che non dobbiamo sottovalutare chiudo dicendo che negli ultimi 15 anni noi abbiamo perso 5 punti dalla famosa manifattura come peso sul PIL rispetto appunto a 15 anni fa rimaniamo la seconda manifattura d'Europa abbiamo i migliori amanti di prodotto e creatori di prodotto però ragazzi non è che andiamo lontano se noi non mettiamo del valore intorno a questi processi intorno a questi prodotti ecco un po' l'essenza l'anima di questa trasformazione che dobbiamo tutti capire e portare avanti senza incertezze e senza distinguo altrimenti ricadiamo nei rituali che volevamo combattere che ci hanno impantanato un po' tutti posso aggiungere una cosa non so se ne è parlato prima ma oltre ovviamente alle azioni che sta facendo il Ministero dello Sviluppo leggevo nelle prossime settimane sono previsti come dire altri 600 milioni circa di investimenti da parte del Ministero dell'Università di Ricerca Scientifica proprio su 12 cluster tecnologici in particolare alcuni proprio su Industria 4.0 che premiano ovviamente aziende sane piccole e medie privilegiano aziende che si uniscono su progetti di ricerca e sviluppo con università o insomma istituti enti di ricerca e ovviamente molti di queste linee sono di cofinanziamento nel senso che c'è una parte di investimento da parte dell'azienda e una parte pubblica quindi mi sembra come dire che il sistema le opportunità i fondi ce ne siano anche molti sta a questo punto a noi come dire intercettarli e spenderli parlando con un consulente con un dipendente del dirigente del Ministero dell'Università di Ricerca Scientifica mi diceva che uno dei grossi problemi è che questi fondi spesso non vengono spesi soprattutto al Sud mancano progettualità che siano in linea con le regole ovviamente previste dalla comunità europea ed altro quindi su questo è facile come dire scadere nelle lamentele o così nelle critiche però poi a livello pratico le opportunità ci sono ce ne sono tante forse sta anche a noi prepararci meglio anche per affrontare magari al Sud o valorizzare meglio questa opportunità lo lancio come autocritica del sistema insomma se i nostri clienti non sono pronti forse sta anche a noi avere un po' di proazione da questo punto di vista e fare sensibilizzazione di progettualità